Saranno circa 4.000 tifosi grigi che riempiranno il Moccagata per il big match di questa sera tra l'Alessandria e la capolista Cittadella, valido per il posticipo del 26esimo turno in Lega Pro. La squadra di Gregucci, che nella rifinitura di ieri è stata sostenuta alla Michelin da tanti supporters che hanno voluto trasmettere tutto il proprio calore ed entusiasmo, sarà chiamata ad una prova sicuramente impegnativa contro la prima della classe, reduce dalla conquista della finale di Coppa Italia di categoria e da 8 vittorie consecutive in campionato con ritmi record, 7 punti di vantaggio sulla seconda il Bassano e 13 in più dei grigi. Impossibile parlare per ora di rimonta, ma l'Alessandria, come dichiarato dal presidente Luca Di Masi, è intenzionata a dimostrare di essere alla pari come qualità del team di Venturato e continuare a guardare sempre verso l'alto. Gran parte della sfida si deciderà a centrocampo e mister Gregucci ha catechizzato i suoi proprio su questo aspetto, sonfermandosi sull'importanza di giocare con ritmo, velocità e intensità, per contrastare un'avversaria solitamente abile ad addormentare la gara per colpire nei momenti chiave. Calcio d'inizio alle 20 allo stadio Mokagatta, prevista un'atmosfera di festa ma in tono minore, con la tifoseria grigia colpita dalla scomparsa di Massimo Toso, storico tifoso della gradinata nord, che in suo ricordo osserverà 15 minuti di silenzio.